Parliamo di politiche sociali e anche di decoro urbano perché questo accostamento anche a volte un po' forzato è stato fatto nel momento in cui degli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti invitando delle persone, degli homeless, così che stazionavano in piazza dei Ferrari sui gradini del Palazzo Locale o in piazza Matteotti a spostarsi, lo hanno fatto rispettando delle norme di regolamenti comunali che vietano giustamente di lasciare bottiglie di vetro, indumenti, i luoghi contribuendo a non creare una condizione di decoro urbano. Questo è un aspetto che si accompagna assolutamente a attenzione invece al problema sociale di chi è in condizioni di bisogno. Non c'è contraddizione tra i due atteggiamenti. L'atteggiamento di attenzione nei confronti di chi è in situazioni di bisogno noi abbiamo cercato di dimostrarlo evitando nei limiti delle nostre possibilità di tagliare i servizi sociali. La politica dei servizi sociali è un obbligo per il Comune di Genova e per questo abbiamo chiesto un contributo a tutti i cittadini e dovremo cercare di andare avanti sempre su questo binario, binario difficile da tenere che tiene assieme attenzione ai più deboli e al tempo stesso rispetto delle regole per tutti, deboli o forti che siano. Questo è l'impegno dell'amministrazione al di là di ogni possibile strumentalizzazione e di ogni possibile etichettatura delle scelte che compiamo.